Il servizio che abbiamo visto ci racconta un paese dove tutti vorremmo non dover ricorrere a eroi, giustizieri con la pistola, sceriffi. Vorremmo vivere tutti in casa lasciando la porta aperta, parcheggiare alle due di notte senza correre rischi. Quello è il mondo migliore possibile, professoressa. Il nostro mondo è un mondo dove comunemente si pensa che alla fine Caino la fa sempre franca, che come dice giustamente un georgiano, un bandito georgiano intercettato, andiamo a fare la rapina in Italia perché tanto ci mettono dentro la sera e la mattina ci liberano. È un paese, e quel servizio lo racconta, di disperati che si devono armare.